Eccoci qua cari telespettatori inizia un'altra settimana di A2x2 con il nostro sportello, il programma che davvero vi aiuta così a capire le grandi e piccole questioni di tutti i giorni. Questa settimana vogliamo iniziare parlando di quello che è il mondo del risparmio, ma dei nostri risparmi e di come possiamo così farli rendere. È per questo che abbiamo invitato nuovamente nel nostro studio Enrico Zone. Grazie, ben trovata. Ben trovato tu caro Enrico, il nostro consulente finanziario a Tutto Tondo che davvero ci sta aiutando a entrare a piccoli passi nel mondo della finanza, questo mondo fantastico che tu insomma del quale sei attratto, innamorato, ne hai fatto una professione. 30 anni fa è iniziato tutto il cinema. Argomento delicato e difficile, astratto, ma bellissimo perché tocchi con il cliente le cose proprio della famiglia e della persona. Ecco, però insomma la famiglia, la persona, c'è tutta questa sfera romantica in cui appunto uno pensa al futuro, pensa a investire, pensa a far rendere quello che è insomma il suo stipendio e le entrate di una famiglia per assicurare un futuro a se stesso, ai propri figli e per rendere insomma tutto più sereno. Però tutto questo lo dobbiamo fare facendo i conti con quello che è un mondo che mamma mia, caro Enrico, sembra che veramente la finanza voglia andare a rotoli, no? Se una persona che non ne sa niente dovesse guardare questo momento economico, si chiude in casa, tira dentro le imposte e non fa più niente e mette i soldi sotto... Il mondo di matti, come è? Il mondo di matti. Ecco, mette i soldi sotto il materasso, giusto? Attenzione al materasso perché poi può bruciare e i ladri possono arrivare. Stiamo attenti al materasso. Il materasso no, bisogna trovare un passo più sicuro. No, vabbè, ma con questo vuoi dire che è un mondo questo in cui si può ancora pensare di... Si deve, si deve, perché il mondo sta cambiando molto velocemente, internet, energie rinnovabili, la robotica, il mondo proprio ormai artificiale, sta cambiando veramente il mondo e i clienti devono adeguarsi, proprio non dovrebbero, devono adeguarsi e devono essere pronti a rischiare un po' di più, ma è un rischio tra virgolette, perché è un rischio solo di oscillazione, non è un rischio di catastrofe finanziaria, oscillazione. Quindi tu che cosa vuoi dirci? Che non dobbiamo solamente guardare dalla finestra fuori casa, ma dobbiamo guardare in una maniera più globale? Sì, gli investimenti devono essere fatti in modo globale, brava, proprio la parola magica, globale. Sono due o tre le cose importanti che vorrei passare a casa come messaggio. Investire in modo globale. Dare consigli è difficile perché ognuno ha le proprie idee, però tanti anni di lavoro ho incontrato tante persone, ne incontro tuttora. Bisogna allargare l'orizzonte. Stare fermi è un peccato, si perdono dei soldi e poi quando è troppo tardi c'è molto più rischio. Quello che faccio per dare un messaggio anche a casa, per evitare tanti numeri che possono annoiare, quando incontro, faccio così, ando sul tiro, perché... Sì, sì, andiamo chiari. Per non andare nel caso specifico, il mio lavoro è questo, aiutare le persone a pianificare il futuro degli investimenti per obiettivi. Una volta ti dicevano, ma sì, ho qua dei soldi, investiamo, ma così vai a comprare un prodotto. Io non sono uno che vende un prodotto, un servizio, ma devo aiutare la persona a capire cosa fare nel lungo periodo dei suoi risparmi tramite obiettivi. Se ho un obiettivo di investimento di 10-15 anni, la cosa migliore è diversificare in modo globale il tuo capitale, in base alle tue esigenze. Se devo investire nel medio periodo o nel lungo, posso comprare azioni americane, giapponesi, asiatiche, europee, mixando anche per settore, settore farmaceutico, settore finanziario. In questo modo hai il famoso paniere con tante opportunità. Questa è la base dell'investimento, diversificazione. Continuo a ripetere perché è la cosa fondamentale, diversificare. Ma quando tu dici che l'investimento nel lungo periodo può essere magari anche azionario, è perché l'azionario è un investimento di rischio? L'azionario è un investimento che nel breve periodo può oscillare, perché nel breve nessuno ha la sfera magica per capire le cose del domani. Nel breve può uscire una notizia negativa su una nazione, su un mercato e allora scatta il panic selling, la gente va a vendere. Vendendo i fondi, vendendo le azioni, i prezzi scendono e il tuo capitale da 10.000 euro può valere 8,5-9. Solo nel breve periodo può capitare questa cosa qua, perché poi tutto si stabilizza. Il mio mondo è fatto di risparmio gestito, per cui gestire il capitale tramite fondi di investimento e SICAV, anche ETF, poi facciamo anche il punto sugli strumenti per fare le differenze. Diversificando in quel modo qui, nel lungo periodo, rispetto ancora la parola magica, diversificare per settore e per la geografica, nel lungo periodo tutto si stabilizza. Nel breve c'è l'ansia, c'è la discesa, cosa posso fare adesso, ma nel lungo i fondi di investimento, con due parole, diversificazione e tempo, si sta tranquilli. Non c'è il rischio di perdere i soldi, perché molti clienti pensano che comprare azioni in borsa, sia come andare al casino o lavare la spacca. Se compri le azioni indirettamente tramite fondi, non c'è il rischio di vedere un fondo di investimento che salta. Faccio un esempio, ci sono 300 titoli, 200-300, se qualche titolo dovesse andare male, non capita niente. Il fondo scende un pochettino nel breve, poi entrano altri titoli, salgono i prezzi e la quota si riallinea. A volte uno se la mena un po' a tutto il linguaggio 7, 8, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 10, 8, ma poi a lunga parliamo di 18, 19, 20, 21, 17, 25, per cui, ripeto, investire diversificando in fondi di investimento, lungo periodo, in base alle proprie esigenze, senza troppo guardare tutti i giorni il mercato, perché crea ansia e si fa solo dei danni. Ho alcuni clienti, alcuni colleghi, posso anche testimoniare, il rincorrere il mercato mese per mese è troppo dannoso, perché vendi quando è alto e poi magari va ancora più su. Compri quando è alto e poi scende, allora metti tutto in liquidità e poi vai a comprare ancora. È veramente un fai da te che non va bene. Se si parte con una bella pianificazione, la chiamano strategica o tattica, mettendo tante armi, sei pronto per cogliere l'opportunità. Questo capita da sempre. Ma come fa un consulente finanziario, ossia una persona che fa il tuo lavoro, a comporre questo famoso paniere? Cioè, dove vai? C'è una bacheca con i vari fondi e tu li vai a scegliere? Piuttosto come funziona? Nel mio caso, è una grossa banca italiana, ma il gruppo è internazionale. Io a casa mia ho proprio tantissimi fondi per poter scegliere, sono informato per comprare e vendere. Cosa faccio io? Vado su un sito, posso anche dirlo Morningstar, che è la bibbia del mondo degli investimenti. Famose stelle, le stelle da una a cinque stelle. Questo Morningstar mette insieme rendimento nel tempo, costi dei fondi e come si comporta in base al suo benchmark, che è riferimento di mercato. Ad esempio, un fondo italiano come riferimento alla borsa italiana. Se la borsa si comporta in un certo modo, il fondo deve andare dietro a questo andamento, deve magari battere l'indice. Questa cosa dà delle votazioni ai fondi, delle stellette. Prendo da ogni gestore i migliori fondi che hanno e compongo il portafoglio, in base anche al cliente e ai suoi gusti. C'è chi vuole investire in robotica, chi vuole investire nel cambiamento climatico, nel settore della demografia, energie rinnovabili, c'è di tutto. Quindi c'è un po' di etica anche dietro queste cose. Perché il cliente vuole magari investire in quei settori in cui crede, no? Sì, o lo fa da solo ma diventa complicato e anche deve spendere tempo, comprare delle piccole azioni, oppure si affida al risparmio gestito. Ok. Anche perché, come abbiamo detto le scorse volte, se il cliente guadagna, il nostro consulente guadagna. Quindi tu hai tutto l'interesse che il tuo cliente guadagni. Non è che quando dici stai tranquillo tienilo lì, non fare niente è un prender tempo. È perché, insomma, credi... Diventa veramente un rapporto molto stretto. Più lo conosco e meglio posso lavorare. Perché io guadagno dai miei clienti. Più il cliente è contento, più rimane investito, porta altri investimenti. E avendo una percentuale ogni mese su tutto il capitale, se il capitale, come adesso è molto in rialzo, perché i mercati sono un po' altini in questa fase, cerco di dire, guarda, l'hai fatto con un lungo periodo come obiettivo, però siamo un po' troppo altini, magari prendiamo un po' del guadagno e mettiamolo al sicuro. Il contrario è quando i mercati vanno male. Quando i mercati vanno un po' male e scendono, il promotor finanziario, il consulente dovrebbe cambiare il cliente per farlo investire. Ma senza ansia, perché non è un trading quotidiano, è un bilanciamento che si fa una volta, due all'anno, ma neanche. Ma allora, la domanda, perché è praticamente premessa di Marina che ci fa questa domanda, ce l'aveva fatta l'altra volta e noi ovviamente ti rivediamo oggi, te la facciamo oggi, ma te l'avrei potuta fare anche io questa domanda, che non ne capisco niente di questi numeri. Lei dice, ho sentito il signor Zone dire che insomma in questi periodi di mercati alti ha fatto liquidare insomma delle cifre. Una piccola parte per metterla al sicuro. Per metterla al sicuro, ok. Lei dice, ma il mondo va tutto male, come fanno i mercati a essere alti? Marina? Marina, grazie per la domanda, è una bella domanda. Infatti, è veramente... Cioè lei si è stupita, dice, come stanno guadagnando? Cioè qua è ovunque ti giri, è una tragedia. Brava, Marina ha fatto una bella domanda. Perché i mercati azionari scontano degli utili futuri. Il mercato è sempre poi in anticipo, nel bene e nel male. Chi compra azioni o fondi azionari perché spera di avere degli utili un domani. Comprando azioni o fondi azionari, tu sei il socio di queste aziende e come socio ti aspetti nel medio periodo di avere un ritorno economico. Per cui i mercati anticipano la vera economia. Se vanno così bene in questo periodo, perché prevedono all'orizzonte qualcosa di buono. E secondo me qualcosa di buono c'è veramente. perché veramente, Maria Rosa, il mercato sta cambiando. Leggendo i quotidiani, le informazioni abbiamo che fare con un momento particolare. Esempio, i dati, i dati, è il nuovo petrolio degli anni del secolo scorso. Le grossi gruppi prendono i dati e poi li vendono. Si fanno operazioni commerciali, guarda internet, i grossi colossi, hanno fatto tantissimo. E poi c'è anche, vanno su tanti i mercati, Marina si chiama, Marina. Per questo acronimo, passo il messaggio che riguarda i mercati finanziari. TINA. TINA. T-I-N-I. Come mia zia. Come tua zia. TINA. Praticamente è l'acronimo in inglese, there is not alternative. Non c'è alternativa. Quando anni fa un investitore aveva un capitale, lo poteva investire in due modi. Nel mondo obbligazionario o nel mondo azionario. Sono due emisferi. Il mondo obbligazionario ti dava il 3, il 4, il 5%, per cui uno poteva dire, sai cosa c'è? Va bene così. Io so che do il mio capitale nel mondo obbligazionario. La durata è di 5 o 10 anni, per avere un po' di interesse, perché più è lungo più c'è il rendimento. Io mi accontento di avere il 4 o il 5% e dormo tranquillo. Perché mettere i soldi sull'ottovolante. I tassi sono quasi a zero o in molti casi negativi. Tassi negativi. Ma come? E chi me lo fa fare allora di comprare le obbligazioni? Perché alcuni dicono, pensa ai grossi gruppi, grossi gruppi finanziari, banche, compagni di assicurazione, non possono ottenere milioni di euro nei conti correnti. C'è il rischio che la banca vada a ramengo, è il massimo che ti garantiti in borsa nei 100 mila euro. Pensa anche in grande queste cose qua. Allora il mondo finanziario, scusa, obbligazionario non rende più niente. Veramente è poco. Per avere lo 0,6% in Italia, 0,6% devi vincolare i soldi per 10 anni. Assurdo. 10 anni e prende lo 0,6%. Ma chi me lo fa fare? E allora cosa succede? Questo capitale si sta spostando, si è spostato nel mondo azionario tramite azioni dirette, fondi di investimento, trading online. Per cui pompando il denaro nelle borse, le borse vanno su. Forse fin troppo in questo periodo, perché c'è un po' l'effetto anche speculazione o grossi gruppi. Per cui Marina, i mercati finanziari scontano, la tua domanda era questa qua, i possibili utili futuri. E invece caro Enrico, come vai le obbligazioni hanno preso questo trend negativo? Cioè cos'è successo che a un certo punto ha fatto andare male il mercato obbligazionario? Io direi bene, direi bene, 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 il mercato obbligazionario. Perché bene? Perché quando una nazione deve pagare il 5 o 6% di interessi, vuol dire che è una nazione che è messa male. Ti ricordi l'Argentina tanti anni fa che pagava anche il 15%, la Grecia? Perché è appunto così, gli stati tramite le aste chiedono i soldi alla gente. Il classico Bot People, anni fa, cosa fai? Il pensionato, l'administratore, dava i soldi allo Stato, li prestava un anno, 2, 5, 10 di BTP. Io, cliente, do i soldi allo Stato, compro il titolo di Stato, lui per 10 anni ce lo tiene e mi paga gli interessi. Per invogliarmi a fare questa cosa, gli stati fanno le aste. È un'asta al contrario. Uno pensa, quando vado a un'asta per comprare una casa, si rilancia al rialzo. Quando vuoi una cosa e fai l'asta, il prezzo va su. In questo caso, quando nessuno vuole un titolo di Stato perché il Paese è a rischio, bisogna trovare chi mette i soldi. Chi mette i soldi? Se la gente ha paura della famosa Grecia, l'Italia qualche anno fa, l'Argentina. Chi compra? Perché comprando, tieni basso i tassi, le banche centrali. Le banche centrali, l'americana, la giapponese, l'Europa, quando dicono stampiamo la moneta e mettiamo liquidità, vuol dire che le banche centrali comprano i titoli italiani. E l'Italia paga meno interesse, per cui si abbassa un po' anche l'evento pubblico, per cui le obbligazioni devono rendere... Poco. 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 Mi sono spiegato un po' il discorso. Sì, sì. Allora, in buona sostanza, se il Paese è poco indebitato, fra virgolette... Non ha bisogno dei tuoi soldi. Non ha bisogno dei tuoi soldi. Infatti, i primi erano in Svizzera, anni fa, poi anche in altre nazioni. Ti danno indietro meno di quello che tu gli hai dato. Perché tu hai la certezza che il tuo capitale, quando andrà a scadenza, torna indietro. E uno pensa, guarda, voglio investire nel mio capitale, so che è in una nazione forte, alla scadenza sicuramente mi torna il capitale e mi accontento dello 0,1%, a volte anche di avere un po' meno. Se posso raccontare una piccola cosa, perché è carina. Anni fa, quando i tassi erano ancora al 2 o al 3%, parliamo di obbligazioni? Sì, obbligazionari. Ero ad un convegno di un grosso gestore americano e c'erano i miei colleghi, varie banche, compagnie di assicurazione, eravamo in 200. E ha spiegato i vari grafici, i rendimenti finanziari, il futuro, le borse e così. E poi dal pubblico hanno chiesto un po' di cose, domande. Cosa facciamo che mi sono tutti i soldi? Come posso investirli? Investire ma sta tranquillo di avere sempre una cedola. Mi fa, guardi, devi investire ma il tasso è vicino allo zero. Questo cliente allora si alza dalla platea e dice, io allora li tengo sotto il materasso. E ha risposto questo gestore americano. Tre problemi, il furto, l'incendio è l'effetto yogurt. Cos'è l'effetto? I primi due sono facilmente comprensibili. L'effetto yogurt, per dire, bisogna, perché sia tutto il mondo finanziario, anche antichiclaggio, per coprire i contanti, gli stati, per mettere a posto le casse e così, praticamente stampare moneta, banconote, con la scadenza, tipo lo yogurt, dove tu sei obbligato a portare in banca, era una battuta ma mica tanto, i soldi in contanti che hai, i tuoi mille euro che scadono domani, li porti e ne hai indietro 997, ecco, è una battuta, ma è anche questo nel mondo. Certo, perché poi bisogna farlo in scala, certo che magari mille euro li puoi tenere nel materasso, ma magari un milione di euro no. Allora, buonasera, io ho sentito parlare di obbligazioni sovranazionali, che a quanto mi è stato riferito consentono di ottenere un buon rendimento a tasso relativamente basso, trattandosi di obbligazioni e non di azioni. vi sarebbe solo il rischio di valuta, anche se comunque per un esperto non sarebbe poca cosa. L'acquisto di tale obbligazione sarebbe possibile anche autonomamente? Tu hai capito, perché io non ho capito niente. Importante che abbia capito tu. Allora, si divide in due il mondo, obbligazionario e azionario. Io metto l'insieme per fare i portafogli. Questo è il mio campo nel settore del risparmio gestito. Vuol dire che do in gestione i miei capitali ai gestori tramite un consulente e in base al profilo di rischio si trova la famosa frontiera efficiente di investimenti, di diversificazione e così. Ma alcuni clienti non vogliono fare questa cosa qua col gestito, vogliono far loro. Si chiama in questo caso risparmio amministrato. Hanno il conto corrente, hanno un dossier titoli, nel quale mettono i vari titoli, che sono obbligazioni, azioni. Se lo fanno da soli? Se lo fanno da soli, il famoso fai da te. Possono comprare delle obbligazioni in altre valute, in dollari, in franchi svizzeri. Cioè le valute di altri stati? Sì, sì, sì. Cioè le obbligazioni, io compro le obbligazioni della Grecia? No, meglio di no. In Grecia sono i titoli di Stato greci, ci sono. Esempio, voglio comprare delle obbligazioni americane in dollari, oppure delle obbligazioni svizzeri in franchi svizzeri, lo posso fare. Solo che lì, oltre al rendimento finanziario dell'1% o l'1,5% c'è il rischio sulla valuta, perché se la valuta perde il 5% e tu hai fatto il più 1 di rendimento, vai sotto. Ma questo non c'è anche con le azioni che compri all'estero? Sì, sì, sì. La valuta c'è sempre? Sì, sì, tutto. Anche con i fondi. I fondi si possono comprare in euro, in altre valute. Quando, ripeto ancora la famosa frase, parola magica, diversificazione, diversifico per settore, aree geografiche per valute. Adesso si può anche investire in aree giocate di tipo Cina, nella valuta locale, local currency si chiama. C'è veramente da sbizzarrirsi. Allora, se tu volessi dare un consiglio non remunerato, gratis così, caro Enrico, alla nostra telespettatrice che si vuole divertire, qual è la valuta che perde un po' meno valore solitamente? Sulle valute così non si può dare il consiglio. Ci sono delle valute chiamate bene rifugio, tipo il franco svizzero, lo yen, ma sono a volte queste cose qua, sono solo delle cose mentali. Perché è sempre un rischio vincolare un investimento su una valuta, su un paese. Poi dipende. Quindi se tu devi dire obbligazione sovranazionali, sì o no? Nel portafoglio di un cliente una parte si possono mettere, certo. Anche se uno cliente ha, non so, parola di cifre, 100 mila euro in obbligazioni euro e mette 10 mila euro in obbligazioni svizzere in franchi. Che cosa cambia? Sì, ci può stare, però bisogna stare attenti, perché poi puoi fare un po' di trading in questo caso. Ok. Quando tu componi però il portafoglio del tuo cliente, questo portafoglio è solo azionario o anche obbligazionario? Io faccio tutto. Tutto. In base, se devo investire per il cliente nel breve periodo, che vuol dire due o tre anni, non metto azionario, perché nel breve l'azionario può correggere un po' troppo. Nel breve sì. Capitare una cosa da meno 10% o meno 15%, tu investi a tre anni, è un problema. Per cui faccio un portafoglio obbligazionario di breve termine. Breve termine. E guarda, allora, stanno arrivando delle domande da un nostro telespettatore, ma hai sbagliato esperto. Adesso io la leggo, ma la faremo a un altro esperto. La possiamo solo commentare. Perché il nostro Enrico Zone è un consulente finanziario, non lavora né in banca né in posto. Ho avuto una brutta esperienza, però è carina, fa ridere, fa tenerezza. Ho avuto una brutta esperienza con posti italiane. Periodicamente mi sparivano gli interessi dal conto corrente, adducendo le spese di deposito. Capisco, ma non tutti gli interessi che già erano pochi. E i Dulcis in fundo mi hanno trattenuto 50 euro per chiudere il conto. Ma, Maurizio di Milano. È accaduto sei anni fa circa. Brutta esperienza. Brutta esperienza. Però a volte, come dicevi tu, il fatto di tenere i soldi fermi su un conto. No, e poi io tiro l'acqua di Molino. Un lavoratore come me, autonomo, che ha a che fare con i clienti. Il cliente per me è il mio, come dire, è chi mi dà da mangiare. Per cui devo veramente curare il suo capitale e la persona, come se fossero i soldi miei. Quello che vedo in giro, andando nelle varie banche, dove non c'è sempre risolta persona, cambiano spesso, devi ripetere sempre le tue cose, e lì hai meno controllo. Logico che devo dire così, perché il mio lavoro è questo. L'evento veramente, un lavoro molto importante e privato e delicato, perché prima di pensare al capitale finanziario, si pensa al capitale umano, per cui, facciamo un esempio, per la sua domanda, prima di fare un investimento io devo capire bene che lavoro fa il mio cliente, che impegni ha, quanti figli ha, se ha delle case di proprietà o sei in affitto, quante cose, metto insieme tutti questi pezzi qua, perché investe nel breve e nel lungo, cosa farà, quanto guadagna, tutti questi valori che impegni ha, con tutta questa griglia, adeguata, verifica, metto tutti questi dati col cliente e li condivido. Alla fine esce un parametro. Se propongo un investimento che non è in griglia con quello che ho scritto, il mio sistema non va avanti. Per cui è veramente una cosa molto intima, non è che io vendo un fondo o delle obbligazioni. Prima di arrivare all'investimento bisogna fare tutto un discorso importante di partenza. Bisogna, appunto, fare un'analisi molto dettagliata. Ricordiamo anche una cosa, il tuo tipo di lavoro, non è che ci si inventa così gestori del patrimonio di una persona, di una famiglia, tu sei autorizzato a andare a casa delle persone a sottoscrivere dei contratti, degli investimenti, giusto? Non è che tutti possono farlo. No, no, proprio così. Prima la parola era promotore finanziario. C'è un albo, ti iscrivi e puoi promuovere il settore finanziario. Adesso l'ha fatta un po' lunga la frase, si chiama consulente finanziario ha abilitato l'offerta fuori sede. Vuol dire che posso investire con il mio cliente nel mio ufficio, a Vigevano, mio ufficio in banca, oppure a casa sua o nella sua azienda, fuori sede, sono abilitato. Per avere questa cosa qua devi fare 30 ore all'anno di corsi e superare dei vari test per avere sempre questa certificazione, è una cosa importante. Allora, ci chiede Elisa, tutte donne oggi che vogliono investire. Eh, fai come. Ci chiede che cos'è il PAC, se è quello che fai tu. Il PAC è il Tocca San, grazie Elisa per la bella domanda. Il PAC è il modo migliore per entrare nel mondo finanziario, perché il PAC è piano di accumulo capitale. Comprando mensilmente, con un'ottica di medio e lungo periodo, e diversificando, non puoi più e proprio di niente, perché lo strumento è adeguatissimo. Comprando piano piano, compri quando un po' il mercato è alto, come questa fase, si compra quando il mercato è basso, si compra quando il mercato è medio, comprando sempre, anzi Elisa, più il mercato va male in teoria per il PAC, meglio è, perché compri più quote ogni volta. Certo, nel giro di due, tre, cinque, sei anni bisogna andare un po' su. Ecco, il piano di accumulo lo consiglio veramente a tutti. Ma il piano di accumulo, no? Lo posso scegliere. Prima tu parlavi di grandi settori, che sono i settori che davvero hanno sostituito il petrolio, e anche altri grandi, insomma, campi di investimenti del passato, e sono il mondo dei dati, e il mondo della... La robotica, l'intelligenza artificiale, ma tutto il mondo che cambia il clima, tutte queste cose qua. Ecco, ci sono anche dei PAC che hanno, insomma, seguono dei filoni, o sono... Tutti questi fondi di investimento, o ETF, o SICAV, si possono acquistare, o il famoso PIC, investimento unico, faccio l'investimento e compro questi fondi. Oppure col PAC, li compro, stesso fondo, ma a rate, piano, piano. Sì, la risposta è sì. Si può comprare col PAC tutti questi settori. Se uno, sai, mette via, non so, 100 euro al mese, 200 o 300 euro al mese, 500 euro, non può diversificare più di tanto con queste somme qua, che sono importanti. Adrendo un PAC ad un fondo di investimento, esempio, globale, nel mondo della robotica, o della tematica in generale, hai il capitale diversificato. Comprandolo, piano, piano, di volta in volta, sei veramente sempre adeguato sul mercato. Quando è una fase realzista, come adesso, toro la chiamano, quando si alza è toro, puoi anche cominciare a vendere un po' il guadagno e switcharlo, passarlo nel mondo tranquillo. Quando il mercato va un po' giù, perché è normale, è fisiologico, il PAC si può anche incrementare un po', perché il prezzo delle quote è un po' sotto. Cioè, bisogna... Orso è toro. Bisognerebbe avere la forza, quando il PAC è basso, di buttarci su ancora qualcosina? Quando i mercati fanno magari una settimana, due o tre di mercati un po' in discesa, io guardo il PAC che ho in portafoglio e dico, guarda, questo cliente sta comprando da 5-6 anni queste quote che oscillano 4-5-6 euro. Causa crisi momentanea, vanno a 3,5-3, chiamo il cliente, in queste fasi qua, e dico, guarda, e il PAC è ben posizionato. L'argomento è attuale, esempio la robotica e tutto questo, il digitale. Se hai qualche soldo da parte o scadenze in altri conti, così, approfitta di questi prezzi un po' bassini nel breve, perché poi si riprenderanno. Ed è provato che comprando durante i ribassi, vendendo un po' durante i rialzi, ma senza troppo pasticciare, in 5-10 anni veramente si ottimizza il rendimento. Allora, c'è una domanda di Riccardo e poi andiamo in pubblicità. Ci chiede, per gli investimenti lunghi, il consulente finanziario ha la possibilità, la facoltà di andare a rinfrescare gli investimenti, cambiare proprio genere? Sì, sì, io ribilancio il portafoglio, grazie per la domanda, bella. Il portafoglio va, visto ogni sei mesi più o meno, poi il cliente è ansioso, è meno ansioso, ma io ribilancio il portafoglio, ogni volta c'è qualche mercato un po' agitato. Sì, la risposta è sì. Non è come un mutuo che lo fai e devi andare avanti, quindi lì è tutto libero. Per cui dico di 5 anni, 10 anni, 20 anni, ma sono scadenze teoriche. Nel gestito non c'è una scadenza vera e propria. La puoi fare come vuoi, la puoi modificare perché magari poi nasce un figlio oppure cambi la macchina o cambi casa. Allora questo è il mio lavoro, capire bene cosa fare con i soldi e tenere il cliente aggiornato. Alcuni ormai con lo smartphone, con il cellulare, vedono in tempo reale tutto e mi chiamano, è anche bello con il cliente, perché in Italia purtroppo il mondo finanziario nelle scuole non è spiegato. Infatti io trovo dei professionisti, anche laureati, avvocati, commercialisti, gente che ha studiato tanto, e li vedo anche molto carenti nel mondo finanziario. Poi mi trovo magari l'operaio, l'impiegato, amico di infanzia, che ha la passione e ha in mano la materia, ma non perché a scuola l'ha studiato, perché è lui che se la studia perché lui piace, allora diventa veramente appassionato. Ma il sistema finanziario in Italia, nelle scuole, purtroppo non è formato, non c'è. Allora, pubblicità per noi, torniamo con ancora un bel po' di domande per il nostro Enrico Zone. Eccoci qua, siamo ancora in diretta e siamo con Enrico Zone, il nostro consulente finanziario. Stavamo dicendo prima della pubblicità che in Italia per molti, molti anni non c'è stata proprio la cultura della borsa, della finanza. Insomma, noi spesso so di amici che hanno preso questa passione guardando i film americani, no? World Trade. Ecco, con l'adrenalina lì. Però insomma, in Italia questo è arrivato dopo, è arrivato tante volte col digitale, no? Col fatto che uno lo facesse da solo. Però poi ci sono dei professionisti come il nostro Enrico Zone che lo fanno di lavoro e lo fanno bene. E i nostri telespettatori sono molto curiosi. Una curiosità ce l'ho anch'io. Siccome tu parli sempre di diversificazione, parli di gestito, che è più sicuro, poi più rischioso, meno rischioso, come lo andiamo a comporre. Ma ci sono, non devi farcino me, anche perché poi qua altri enti ci vengono a bussare, no? Se diamo i consigli sbagliati e poi invece per i consigli giusti vogliamo essere pagati. Ci sono delle azioni secche sulle quali tu credi tanto? Lì è un argomento difficile e rischioso. Prima perché non posso promuovere azioni singole, proprio per legge, non posso. Ok, però puoi inserirle nei piani dei tuoi clienti. Quando scelgo fondi di investimento non posso mettere le azioni nel fondo, perché ci pensa il gestore. Per esempio, il cliente mi affida un capitale, io con lui trovo la soluzione più idonea in base alle sue caratteristiche, il famoso tailor-made. Scelto il fondo, il cliente versa, i soldi vanno in banca depositaria, che sono lì. Il gestore è colui che compra e vende i titoli. Il gestore è quello che studia i bilanci, va nelle aziende a toccare le mura, a vedere in faccia... Andava la parmalat a toccare le mucle. Insomma, sono andati purtroppo. Allora il gestore è quello che deve gestire materialmente i soldi, compra e vende il titolo. Ecco perché dico, è più sicuro investire tramite il gestito, perché mentre uno è a casa che lavora, io lavoro con il cliente, uno è in vacanza, il gestore di lavoro fa questo, deve capire bene che cosa mettere in portafoglio, perché il gestore viene pagato tanto anche in base ai risultati che ha. Certo. Se il fondo si comporta bene rispetto ad altri fondi, viene pagato. E anche lì, adesso, prima erano i gestori tutti esseri umani, adesso con la FinTech sono i robot, con gli algoritmi che gestiscono. Perché a volte i mercati vanno così forti o così male? Perché non c'è più l'ansia dell'essere umano? Perché è tutto un discorso di numeri e di passaggi. Quando nel mercato capita così l'algoritmo, il petrolio va così, l'inflazione, in automatico scattano le vendite e gli acquisti. Ecco perché il mercato scenario diventa veramente una roller coaster, ovviamente le montagne russe. Sì, le montagne russe. Titoli singoli, sì, a volte la che piace, ma chi vuole investire nel mondo a breve, nei titoli, non è un investitore, ma diventa un giocatore d'azzardo, e cerca un guadagno nel breve. Che però è un'altra cosa, rispetto a gestire un risparmio. Però è giusto che questa cosa continuiamo a ripeterla. Bisogna dirla, bisogna dirla e ridirla. In questi anni, mi ricordo anni fa, alcuni clienti dicevano, guarda, ti do una quota a te e fai i fondi che vuoi, ci vediamo tra 5 o 6 anni. E questa quota, il cliente stesso, faccio io il fai da te con le azioni, compro, vendo, compro. Però è un lavoro, sai, perché devi comprare le azioni. Adesso con lo smartphone, con il cellulare è velocissimo. È più veloce. Però devi guardare i grafici, devi vedere un po' le tendenze di mercato. Diventa, non c'è solo il denaro, proprio il tempo che spendi. Non conviene pagare l'1%, il 2% medio di un fondo di investimento e delegare ai gestori. Per me è molto meglio. Poi se uno vuole fare così, può farlo. E tantissimi lo stanno facendo. Però è importante dire anche questa cosa. Perché noi a volte, quando parliamo, partiamo già da un presupposto più avanzato. E invece noi dobbiamo parlare alle persone a casa che, come dicevi tu, non capiscono nulla di finanza. Quindi, magari, quando gli andiamo a dire buonasera, vi presentiamo un consulente finanziario, loro pensano subito al mondo azionario, a quel mondo lì, fatto molto volubile, quel mondo lì, fatto di frecce rosse che vanno in giù e praticamente è molto vicino alla scommessa e quindi lontano da quella che è una gestione... Confondono questa cosa qua. Confondono questo. È per quello che il mercato in Italia è ancora un po' acerbo. Uno pensa ai mercati azionari, si ricorda magari l'amico che con quella azione ha perso i soldi, allora sta lontano. E ti dice, guarda, gli investiamo, ma prudente e sicuro. Poi passa magari un anno, due anni, tre anni, con i tassi a zero negativi, il capitale è sempre quello. E ti dicono, ma come mai è sempre quello? Perché se sei prudente non hai opportunità. Bisogna proprio consigliare ai clienti di accettare un po' di volatilità e allungare un po' il tempo. In questo modo, sì, andrà bene. Allora, guarda, qua c'è un messaggio che secondo me avrebbero potuto scrivere veramente in tanti. È di Marco, e dice, magari aver avuto Enrico Zone al mio fianco all'epoca delle torri gemelle, perché invece nella mia banca non hanno saputo gestire il momento, mi hanno fatto perdere tanti soldi. Grazie Marco. È un argomento bruttissimo, un disastro mondiale, per cui è una cosa negativa. Però purtroppo c'è anche la speculazione su queste cose. E i rendimenti vengono fatti tanto dalla speculazione, perché se il listino o un'azione o un'obbligazione rimane sempre più o meno stabile, non ce n'è per nessuno. Il mercato ha bisogno di notizie, o belle, o purtroppo in questo caso tragiche. Quando c'è questo scostamento dallo zero in più o in meno, lì si fanno i guadagni. E purtroppo nel fatto 100, posso dirlo, l'80% dei casi quando le cose vanno male, tipo le tue gemelle, o mi ricordo ancora le bolle a internet, la gente vede il capitale che valeva 100, poi vale 95, vale 90, 87, vai al bar, parli con l'altro, così, sai cosa fanno? Guarda, basta così, vendo, metto tutto al sicuro nel conto corrente e non ci penso più. Poi il mercato automaticamente il mondo va avanti, non puoi fermarlo per una notizia anche se è brutta, il mercato riprende e tu non ci sei più, c'eri quando è andato giù e non ci sei più quando va su, per cui bisogna stare tranquilli, avere un portafoglio ben diversificato e approfittare di questi momenti un po' brutti, approfittare per comprare. Ecco, secondo me, io ho capito molto bene quello che vuole dire Marco ed è così, perché purtroppo, un po' legato a quello che dicevi tu nel mondo delle banche, che spesso, banche o in generale, o in generale, insomma, è vero, non stigmatizziamo la figura del povero bancario, però, però cosa succede? Che spesso questi impiegati non erano dei forti conoscitori di mercato e quindi si sono trovati ad affrontare una situazione dove magari davanti al cliente che voleva mettere tutto al sicuro anche per loro impauriti e tutto, guarda, stai tranquillo, mettiamo tutto al sicuro. Infatti, va bene, insomma, adesso sappiamo, avrai anche altri esempi, Questa è esperienza, però, bisogna partire dalle esperienze negative e sapere, altri esempi, per esempio. dal 90 ad oggi ho visto la partenza subito nel 91 con Kuwait, sparavano. Ti ricordi che la guerra del Golfo, anche lì i mercati erano scesi un po', e ho che paura, che paura, e poi tutto si è risolto. Adesso vado a memoria, la crisi in Russia, mi ricordo poi la bolla internet, anche lì le azioni tiscali, le azioni dalle stelle e le stalle, poi il problema dei mutui su Prime nel 2008 con la crisi, tutte cose che hanno spaventato nel breve e poi tutto si è sistemato. Ecco perché insisto a ripetere le solite cose con la diversificazione, il tempo un po' più lungo, e magari comprare piano piano. Allora, in pratica, cari telespettatori, ve lo dico come un mantra, quando il mercato va giù voi dovete sentirvi fortunati perché state comprando più parti, più quote. Allora, un'altra domanda, io ripeto, te la leggo perché non ci capisco niente, la tassazione relativa ai guadagni derivanti dalle obbligazioni e azioni, quale sarebbe? Si tratta di tassazione alla fonte, giusto, e conseguentemente gli eventuali guadagni non dovranno essere inseriti in dichiarazione dei redditi, giusto? Giusto, si paga il 26% quando vai a vendere lo strumento. Tanto, no? 26% sul guadagno. Sul guadagno, non sul capitale. Sul guadagno, metto 10.000 euro diventano 13, sui 3.000 euro pago il 26% che va allo Stato e non devi mettere niente nel modello unico perché è a posto così, alla fonte. Ma come la trovi questa percentuale del 26% che vuole allo Stato? In Italia rispetto a altri paesi è buona. Ah, sembrava tanto. i paesi pagano anche di più, proprio come nel lavoro, con le varie aliquote anche il 30-35%. Ah, sì? Diventa quasi un paradiso fiscale l'Italia. Ah, sì? Dobbiamo ritenerci fortunati. Invece, ci saranno dei paesi dove va ancora meglio, no? Sì, sì, i famosi veri paradisi dove va bene. Dove va bene. Lontani. Però sono troppo lontani, sono così lontani che non ci possiamo arrivare. E invece abbiamo imparato che il mercato ormai è globale, non dobbiamo più avere limiti, vero? Possiamo investire in qualsiasi... Da, dappertutto, dappertutto. Anche perché in Italia la borsa italiana è proprio piccola, piccola, piccola ed è ancora più piccola perché gli altri stanno veramente andando fortissimo. Esempio, adesso non posso dare consigli in diretta perché non ho davanti al cliente non ho capito cosa vuole fare così solo. Certo. Ma se dovessi fare delle cose macro dei dati, insomma, la Cina sta spaventando perché loro non sono i milioni di persone, sono i miliardi e i miliardi di abitanti. Prima la Cina esportava in tutto il mondo e infatti la domanda era dal mondo verso la Cina per la materia prima e la Cina esportava. Il classico cinese aveva uno stipendio bassissimo ed era nelle campagne. O ammassato nelle città, no, nei dormitori. Adesso stanno creando queste città famose in tutto il mondo ma in Cina tantissimo chiamate Smart City. Città veramente agglomerati, con tutte le cose del futuro per cui riscaldamento, domotica, collegamenti digitali e si prevede che nel futuro sempre più persone, sempre di più, andranno a abitare nelle città, le megalopoli. La Cina sta continuando a sfornare nuovi ingegneri, la scuola sta cambiando e i consumi cinesi, i loro consumi interni, i loro consumi interni sono veramente aumentati e sarà sempre di più per cui domanda interna, domanda anche esterna, la borsa cinese sta veramente crescendo e prevedono veramente un'area geografica pazzesca, la Cina, l'Oriente, più che altro, quasi come l'America. Poi sono anche primi a uscire dal Covid, no? Sì, sono avanti, sono veloci, sono delle strutture nuove per cui bisogna investire in questa fase qua un po' più in azioni o fondi legati a quel mondo lì, novità del mercato orientale più che altro. L'America ha corso tanto, l'Europa è ancora un po' il palo perché non c'è una vera banca, perché tutti un po' litighiamo un po' di qui, un po' di là, per cui è fondamentale investire in modo globale. Ok, e guardare appunto anche a questi mercati così orientali, orientali più. E poi i settori, fino a qualche tempo fa, infatti la borsa di New York, il Nasdaq, con la tecnologia ha fatto cose pazzesche l'anno scorso, titoli che hanno fatto il 300%, cose assurde, un po' pompate, la tecnologia. Adesso sta un po' girando l'attenzione sul mondo energie rinnovabili, tutte queste cose sul clima che è molto importante, digitale, per cui si parla di idrogeno, settore con l'idrogeno, nuovo argomento interessante. Uno che ha qualche soldo, deve investire, non può non essere oggi come oggi messo in queste condizioni, deve investire in questi settori qui. Ok, avevamo già parlato, ci mancano veramente pochi, pochi minuti, minuti, avevamo già parlato l'altra volta di quote d'ingresso, no? È cambiato il mercato, è cambiata anche la società, non ci sono più i risparmiatori che arrivano con le casse di monete d'ora, di conozone, investiamo questi risparmi, però ricordiamo ai nostri telespettatori che si può accedere anche con piccole quote, i fondi si possono comprare con mille euro, puoi comprare un fondo americano, giapponese, cinese, europeo, e puoi comprarlo anche con quote da 100 euro al mese, anche meno in qualche caso, per cui è aperto un po' a tutti, veramente si può fare di tutto e di più, ripeto, investire in modo globale e allungare un po' il tempo. Bene, e allora davvero ringraziamo il nostro Enrico Zone perché anche questa sera ci ha dato una lezione sull'investimento e su quello che sono anche i mercati e ogni volta impariamo un po' di terminologia in più. Salutiamo la ziatina, ripetiamo l'acronimo di? Non mi ricordo più, there is not alternative. Non c'è alternativa, bisogna fare così. Anche se sta un po' cambiando il discorso con l'inflazione e con gli immobili, ma prossima volta ne parleremo. Prossima volta, prossima volta. Facciamo assimilare questo, abbiamo dato un sacco di nozioni. Grazie Enrico. Grazie a te per l'invito. Buon lavoro. Grazie a voi, cari telespettatori, ci vediamo domani, torna la nostra consulente del lavoro. Grazie a te per l'invito. 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 Grazie.